Ehi, ma hai visto quella? Eh sì, andiamo a dirle qualcosa, va? Andiamo. Ehi, ma tu hai fatto? Ho buttato una bottiglietta per terra. Senti, ti mostro il mondo nella posta. Vieni, va. Ecco, vedi com'è bello questo mondo? Pieno di fiori e senza spazzatura. È vero, è bellissimo. Riciclare tutti insieme per vivere meglio!